... Fuori Tg, buongiorno e benvenuti. Dunque, quello che vedete è l'asbesto, ovvero l'amianto. Oggi noi parliamo di amianto, di cui è stata riconosciuta da tempo la pericolosità e che è stato messo al bando in Italia per legge dal 1992. Ecco, però diciamo che l'amianto è ancora presente in alcuni edifici, non sono completate tutte le bonifiche ed è anche presente nelle navi. E noi oggi vogliamo parlare di questo, delle navi. Cominciamo con un'intervista realizzata da Valeria Collevecchio. Io sono Renata e sono orfana di Giovanni Ruffeni Tiraferri, orfana di un papà ucciso dall'amianto, una principessa di papà trasformata in guerriera dalla sua morte. Il papà nel 1979 fu chiamato alla leva militare nella marina, in particolare nei sommergibili. E all'interno di questi sommergibili, lui come altri migliaia di ragazzi, furono esposti in maniera totale e completa ad amianto non coibentato, che dovevano lavorare, con cui dovevano convivere, con cui dovevano dormire, bere l'acqua nei tubi pieni di amianto. E così, 30 anni dopo, come un orologio, mio padre, che era uno sportivo, che mangiava sano, che amava camminare, correre, che non si ammalava mai, si ammala di una delle più brutte malattie che io abbia avuto purtroppo la disgrazia di vedere sotto i miei occhi, un mesotelioma peritoneale maligno. Ovvero, mio padre non solo aveva respirato le fibre di amianto, le aveva addirittura ingerite. Sono stati due anni di lotta, perché papà era forte, perché papà voleva vivere, in cui abbiamo avuto il sostegno di vari medici, alcuni di più, alcuni di meno, ma con un'unica frase, una condanna a morte. Quando papà si è spento, ucciso da questa maledetta malattia, io ho giurato che avrei fatto di tutto per aiutare, in qualunque modo possibile, chi si trovava nella stessa situazione. Al giorno d'oggi ancora è difficile dimostrare quello che è palese, ovvero il collegamento fra le malattie a svesto correlato e all'esposizione all'amianto. E questo non solo in via privata, quindi a tutte quelle aziende che hanno esposto i loro operai, i loro dipendenti all'amianto, ma anche con lo stesso Stato italiano, che con mio padre ha ammesso la sua colpa, perché io sono orfana di vittima del dovere, mio padre è stato dichiarato vittima del dovere, ma in Italia, dalle nostre ricerche, ne contiamo tre di equiparati vittime del dovere a seguito dell'esposizione all'amianto, su qualche migliaio di casi di militari morti per esposizione. Dopo tutte queste battaglie, per lei l'amianto cos'è? Un killer non più tanto silenzioso. Prima lo definivano il killer silenzioso, adesso noi gli abbiamo dato voce a questo killer e in questo modo, con questa voce, piano piano lo distruggeremo. Dunque, amianto sotto coperta è il titolo della nostra puntata di oggi, amianto sul navi militare. Si tratta di una vicenda ancora aperta, di bonifiche in corso, e quindi ne parleremo con due ospiti per capire a che punto siamo e poi vedrete, avremo diversi servizi filmati. Vi presento intanto gli ospiti che sono qua in studio insieme a me. Abbiamo l'onorevole Paola Boldrini della Commissione Difesa della Camera dei Deputati. Buongiorno, benvenuta a Fuori Tg. Lei tra l'altro fa parte anche della commissione di inchiesta sull'uranio impoverito? Sì, e sugli altri effetti patogeni che sono correlati all'attività appunto delle forze armate. Senta, mi dica subito, lei ha visitato un cantiere dove c'è in corso la bonifica di navi militari? Sì, tra la previsione delle missioni che abbiamo fatto nella nostra commissione di inchiesta c'era la previsione appunto di visitare dei cantieri laddove c'erano gli arsenali militari, praticamente i cantieri navali. Personalmente sono andata nel cantiere navale di La Spezia e lì abbiamo visitato le officine laddove si stavano facendo bonifiche sia nell'ambito dell'officina stessa ma anche proprio la bonifica delle navi perché arrivavano lì le navi da bonificare. Sappiamo che le navi sono bonificate da aziende esterne perché la marina stessa può aiutare ma ci sono delle aziende anche perché l'amianto, lo sappiamo, è da trattare con molta cura. E' estremamente delicata. Esatto, la bonifica ma anche lo smaltimento dell'amianto è pericolosissimo per cui c'è tutta una cura particolare. Quindi io stessa ho visitato c'è un piano di bonifico ovviamente della difesa che sta proseguendo. Noi stessi abbiamo... E ne parleremo. Non voglio anticipare cose che poi sentiremo in una delle interviste successive. Intanto presento il nostro secondo ospite che è Ezio Bonanni avvocato dell'osservatorio nazionale sull'amianto. Benvenuto a Fuori Tg. Allora c'è un libro Navi di Amianto scritto da Lino Lava e Giuseppe Pietrobelli che cita tra l'altro un rapporto del registro nazionale dei messi del gliomi dice che l'Italia è tra i paesi più colpiti dalle malattie diciamo causate dall'amianto. Ci sono procedimenti in corso diciamo ce ne sono stati tre in tutto se non sbaglio. Giusto? Uno si è concluso con la prescrizione. Andando con ordine l'Italia purtroppo fa registrare circa 6.000 decessi l'anno per patologie asbesto correlate. Ne abbiamo ancora abbiamo ancora 40 milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto circa 1.900 casi di mesotelioma ogni anno e con tutte le altre patologie. La Marina Militaria Italiana ma in passato anche le ferrovie e altre aziende o settori pubblici hanno fatto l'arguso dell'amianto non cautelato. Per questi motivi noi come osservatorio nazionale amianto abbiamo segnalato alla procura della Repubblica di Padova centinaia di casi per cui alla fin fine con tutte le altre segnalazioni si è giunti a più di 1.100 casi di cui 570 solo di mesoteliomi con l'avvio di tre distinti procedimenti uno definito in prescrizione Adesso cominciamo con il primo dei nostri servizi filmati di Giorgio Galleano. Qui in primo piano ci sono due navi in disarmo mi sembra di riconoscerne una dovrebbe essere il Carabiniere o l'Alpino piene di amianto ancora oggi sicuramente. Queste navi sono andate in giro piene di amianto per quanti anni? Beh, per tantissimi anni se lei pensa che dal 92 l'amianto doveva essere tolto di mezzo il Ministero della Difesa risarcisce ma ci fa fare veramente molta fatica. La nostra giustizia funziona in questo modo lentamente perché ci sono cavilli perché il riconoscimento del nesso causale spesso è difficoltoso e controverso e i tempi della giustizia sono molto lunghi. Per i marinai imbarcati sulle navi di fabbricazione americana si è aperta una strada grazie all'avvocato Mitchell Cohen che nei tribunali americani ha intentato e vinto numerose cause contro i costruttori anche a beneficio dei nostri connazionali. Abbiamo seguito circa 140 casi e di questi 100 sono già stati risarciti. Ho fatto 16 anni di navigazione reale sono stato imbarcato anche su una nave americana per un anno la parte italiana ultimamente ha avuto un risarcimento come vittima del dovere. A mio avviso è stato un risarcimento simbolico per quanto riguarda la parte inizio americana sto aspettando appunto di chiedere il risarcimento laddove ne competesse. Ci sono purtroppo ancora oggi a 25 anni navi della marina che navigano ancora con l'amianto a bordo. Alcune navi per essere non totalmente ma parzialmente bonificate hanno impiegato 15 anni. Noi avevamo chiesto nel 2010 all'allora ispettore generale di tutta la sanità militare di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria provvedimento adottato universalmente dai paesi più avanzati diciamo. purtroppo in Italia questa richiesta di aiuto è rimasta inascoltata noi ci sentiamo abbandonati dall'amministrazione militare che abbiamo servito servito lo Stato intendo dire dopodiché una volta andati in quescenza di noi si sono completamente o quasi completamente dimenticati e questo non fa amore. Dunque tra un attimo sentiremo un'intervista a un ammiraglio appunto di Stato Maggiore della Marina Militare volevo fare un rapido passaggio tornando un momento a quello che stavamo dicendo prima stiamo parlando di una fase diciamo istruttoria quindi siamo alla fase dell'ipotesi però dal punto di vista oggettivo fermo alla presunzione di innocenza naturalmente il dato oggettivo è un certo numero di casi di decessi tra l'altro rubricati anche accertati dalla commissione d'inchiesta che a pagina 18 fa riferimento per i soli casi segnalati alla procura di Patova più di 1100 casi di cui 570 per mesotelioma pleurico mentre la Marina ne aveva segnalati 126 e dopodiché ci sono tutti i casi già riconosciuti anche il caso di Renata Renata era stata riconosciuta però per un cavillo l'amministrazione della difesa negava addirittura l'indennizzo e abbiamo ottenuto dal tribunale competente la sentenza di condanna che però l'avvocatura dello Stato su un mandato della Marina militare ha impugnato quindi la Marina si è accanita si oppone anche all'indennizzo per le vittime intanto questa ragazza ha ottenuto il riconoscimento di orfana però la Marina ha negato il risarcimento e ha ottenuto con la nostra assistenza legale una sentenza di condanna che però l'avvocatura dello Stato ha impugnato ancora una volta quindi vicenda in corso voleva dire qualcosa onorevole Boldini io volevo dire alcune cose innanzitutto prima si parlava di navi che effettivamente non è ancora completata la mappatura delle navi che sono state bonificate quando è iniziata questa mappatura delle navi? è iniziata molti anni fa sì e però noi abbiamo avuto un'audizione del segretario generale della difesa Magrassi un'audizione questo è un dato che riporto ma dopo non abbiamo avuto altre quindi erano 145 unità navali bonificate contro le 167 esistenti per cui è ovvio non è finita la bonifica però si sta proseguendo credo sia ora di sentire a questo punto la marina allora Valeria Collevecchio ha intervistato Massimo Guma ammiraglio di Stato Maggiore della Marina Militare sentiamo da lui a che punto è questa bonifica ammiraglio quando vi siete accorti della pericolosità dell'amianto e cosa avete fatto? la pericolosità dell'amianto è correlata alla possibilità che vi sia rilascio di fibre aero disperse quindi di fatto il legislatore emana un divieto di utilizzo dell'amianto e a partire dal decreto ministeriale del 94 inizia a dare disposizioni specifiche quindi la marina una volta che vi è stata la consapevolezza ha avviato le azioni necessarie a gestire il rischio affinché fosse minimizzata l'esposizione del proprio personale a che punto siete con le bonifiche delle vostre navi? parlando di bonifiche è opportuno precisare un concetto bonifica non vuol dire rimozione definitiva quindi gli interventi di bonifica intesi mirati alla gestione del rischio di esposizione alle fibre aerodisperse sono tutti in essere la rimozione definitiva dell'amianto è invece ancora in corso quindi di fatto vi è il monitoraggio a bordo delle navi e presso le infrastrutture dei materiali che contengono l'amianto affinché ne sia gestito la loro presenza e valutati i rischi sempre per tutelare e minimizzare il rischio di esposizione del personale in questo momento state usando delle navi invece dove non c'è stato nessun intervento allora tutte le navi sono state oggetto di bonifica intesa come intervento necessario a minimizzare il rischio dell'amianto ci sono ancora confermo interventi in corso per la rimozione definitiva tutti i vostri militari possono stare tranquilli oggi io sono il capo ufficio prevenzione tutela personale quindi è chiaro che il nostro obiettivo è la tutela del personale allora c'è stato un tempo lontano in cui avere a che fare con degli edifici dove c'erano delle parti di amianto o con delle navi era una diciamo una cosa che veniva presa un po' alla leggera dal personale intendo dire chi stava a bordo di queste navi metteva in essere dei comportamenti la cui pericolosità ignorava oggi è cambiata questa cosa certamente sono stati fatti molti passi avanti anche dalla stessa amministrazione della difesa e dalla marina militare che avendo preso coscienza del gran numero di casi di mesotelioma e altre patologie legate all'amianto ma anche grazie all'intervento legislativo di equiparazione alle vittime del dovere per intervento dell'ex presidente della repubblica napolitano è chiaro che da quel momento ci fu una forte azione di inizio delle bonifiche naturalmente ora stiamo pagando le conseguenze delle vecchie esposizioni e come diceva il picco previsto per il 2025 come diceva effettivamente l'ammiraglio minimizzare il rischio vuol dire che il rischio c'è sempre quindi c'è un'ammissione da parte della marina militare che loro hanno minimizzato questo rischio quindi il rischio c'è era importante sentire allora diciamo c'è un'altra vicenda diversa che probabilmente anzi immagino sicuramente voi avrete seguito come commissione onorevole Boldrini che è quella del Radon ci sono state delle condanne e si tratta di una prima volta possiamo dirlo anche qui una prima volta perché c'è stata una verifica da parte di un istituto che ha fatto appunto queste verifiche e ha dato la possibilità di accertare l'effettiva esistenza di questo gas che è un gas naturale si trovava all'interno di una base all'interno di una base al Montevenda vicino ai Colle Euganei nel Veneto e che però questo gas che pur naturale è tossico altamente tossico e quindi in presenza di areazione potrebbe come posso dire levare l'efficacia però in presenza di una chiusura come è stato fatto questo bunker perché era degli anni dopo durante il periodo della guerra fredda costringendo appunto le persone in questo bunker non c'era respirazione per cui c'è stato questo effetto di tossicità anche su questa cosa insomma è stato discusso molto e noi abbiamo volevo proporvi l'intervista ai figli di una delle vittime del Radon dopo diciamo l'indomani di questa sentenza la nostra Flavia Paone l'ha realizzata mio padre si chiamava Graziano ha cominciato a lavorare lì all'età di 18 anni ha lavorato su nel Montevenda il primo rock Montevenda dove c'era questa galleria in pratica dove c'erano tutti i radar che controllavano il traffico aereo militare era una base nato dal 2006 in poi hanno chiuso la caserma perché hanno cominciato a venire fuori delle analisi dove si rilevava appunto dei livelli di radon elevati si pensi che il valore normale dovrebbe essere intorno ai 500 becquerel e lì trovavano valori di 14.000 becquerel quindi valori altissimi l'aria era terribile la dentro perché anche noi delle volte andavamo e ti sentivi quest'aria pesante che ti veniva addosso loro sentivano che qualcosa non andava quando hanno iniziato veramente a morire tutte queste persone veramente hanno iniziato a dire ma quello lavorava con me quello faceva i turni con me e è morto infatti noi spesso dicevamo devo andare a un funerale ma caspita dicevamo ma quanti ne muoiono lo chiamano a fare finalmente dei controlli che avevano dal 2006 che sapevano che c'erano questi problemi i primi controlli li hanno fatti nel 2012 a queste persone che ormai ne erano morte parecchie e da lì è cominciato il declino nel senso che hanno cominciato e hanno diagnosticato questo tumore questo tumore al polmone si è sentito tradito dall'aeronautica da quel mondo no lui l'unica cosa che che a lui ha dato diciamo l'amarezza era il fatto di dire se loro lo sapevano perché non ci hanno chiamato prima quello che mi dà mi dà più fastidio è quello che queste persone non abbiano voluto voluto perché lì è stato proprio voluto dire far sapere quello che quello che era il problema della caserma e quindi affrontarlo e dire cerchiamo di salvare il più possibile delle persone che hanno lavorato lì l'arma aeronautica non ha voluto dare la lista delle persone che hanno lavorato nonostante il che hanno lavorato al Venda nonostante il giudice lo abbia richiesto non stiamo parlando di numeri ma stiamo parlando di persone che sono morte cioè è questa la differenza a noi a noi ci è mancato nostro papà era giovanissimo e questo non ce lo riderà più nessuno però la speranza che per qualcun altro vada meglio insomma abbiamo pochissimi secondi per dire vorrei dire questi militari debbono sottoporsi subito a sorveglianza sanitaria sia per il rischio amianto che era presente anche in aviazione anche in quella caserma e noi abbiamo fatto già delle denunce c'è in piedi un'istruttoria anche per l'aeronautica diciamo la speranza e chiedere il risarcimento e che altre persone ottengano questo riconoscimento il riconoscimento di vittima del dovere e il risarcimento rapidissima rapidissimamente però io volevo dire che proprio per evitare queste cose nel futuro noi abbiamo proposto come commissione inchiesta due proposte di legge che vanno proprio verso questo senso più prevenzione più osservazione sanitaria nei militari e anche le bonifiche dei siti contaminati come i poligoni dove sono venute queste cose io ringrazio entrambi i nostri ospiti ringrazio voi telespettatori che ci avete seguito noi torniamo in diretta domani alle 12.25 sempre qui su Rai3 parleremo di violenza contro le donne perché poi sabato il 25 novembre ci vediamo domani in diretta arrivederci grazie a tutti grazie a tutti